Ornella, una 53enne a retina da circa 10 anni, trascorreva le sue giornate ma soprattutto le sue notti all'interno di questa auto. Questa mattina è stata ritrovata senza vita, a lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini. È successo in località Poggio del Drago, a pochi chilometri da Arezzo, nel comune di Pergine e Laterina, a stroncare la vita della donna originaria di Ponticino, secondo i primi accertamenti sarebbe stato il freddo. Questa mattina i vicini, preoccupanti, non vedendola più in giro da giorni, hanno chiamato i carabinieri, che una volta giunti sul posto hanno fatto la drammatica scoperta. Nemmeno i parenti della donna da tempo avevano più sue notizie. Il decesso risalirebbe a cinque giorni fa per il medico regale e si tratterebbe di morte naturale. A causare il malore fatale alla donna sarebbero state le rigide temperature raggiunte nella notte. Ornella D'Anne viveva senza fissa dimora, la sua era stata una libera scelta, si arraggiava in qualche modo, portando così avanti un'esistenza ritirata dal mondo e a stretto contatto con la natura. Da anni la 53enne aveva trasformato la sua auto, una Fiat 500 Bianca, in un'abitazione. Nel corso degli anni aveva rifiutato ogni tipo di aiuto e sostegno. Al fianco della sua auto oggi resta un fornellino con il quale si preparava qualche pasto, delle coperte di una madonnina. Ornella era infatti molto religiosa. Il ritrovamento del corpo senza vita della donna ha lasciato sgomenta all'intera comunità della piccola frazione. La donna infatti era molto conosciuta ed in tanti erano ben felici di aiutarla come possibile.